buongiorno truccheria! mi trucco con il make up axe! e che restu axe? j axe! moment axe! tu capisci? no vabbè ma che sta facendo? il fondotinta nell'acqua devo mettere! lo devo andare qua! e che sta da fare il bagno stu fondotinta? scusate! arraquiamo il fondotinta? sembrano tanti vermetti! ma che famoso babe! inzuppiamo il pennellino! ma pop capito il fondotinta nell'acqua! cioè non lo potevo mettere sul viso direttamente! e io mi devo mettere sto coso in faccia! ma mi sto in acqua! sembra il pennello per la barba! cioè mi sto truccando ma già fa barba! è un irrigatore stupnil! questa procedura è consigliata in estate perché è molto fresca! ua! maro! ma poi l'acqua si può bere! momento smr! sto stendendo più acqua che fondotinta ma vabbù! ma che ha pensato a sta strunzata? picchietto sul fondotinta bagnato quindi bagnetta! mi devo picchiare più forte perché qua si deve asciugare tutto sto bagnato! si guarda proprio tale quale a te mi è venuto! l'hai scioccata perché l'è venuto bene e io ho scioccato perché a me fa sempre schifo! ma perché? scusate! e cos'è sta penna al correttore? chi ha te? dobbiamo fare la gatta? miau! e shakeriamo la testa perché sennò non funziona? e un picchiettage veloce proprio flash! e cos'è stupido i picchi log? ma secondo te io ho la faccia di uno che ha questo cosillo? ebbia! e aspetta che io questa cosa non ce l'ho! devo capire cosa mi devo mettere! sentite spero che il rossetto sia la stessa cosa e che non mi si gonfi l'occhio tanto! e il correttore non si bagna con me o fondotinta slave o correttore no! stu 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 stu! picchiettage sotto l'occhio! se non si è gonfiato per il rossetto si gonfia adesso! allora qua qualcosa sta andando storto! mi inizia a bruciare l'occhio! mi sta iniziando a bruciare l'occhio! c'è ma tu guarda a lei e poi guarda a me! io ho passito! ma quanta roba mangio a me! allora devo fare una y! e non su vero! comunque vabbè perfetta! e chi ten stu pennello schiacciato? ti ten su stu cosillo? pennellage! fa pur male stu coso! c'è ma mi prende per il culo questa cosa! non è cambiato niente! e adesso massaggiamo e coccoliamo un po' il contouring perché sta la pigliata collera! poi facciamo dito in dito e sfreghiamo! se continuo così sta a piccio fuoco! e ci soffiamo il naso! poi ce lo picchiamo un po' sperando che si addrizza e che questa gobba rientri di nuovo dentro! sempre peggio qua! ci stiamo inguacchiando insomma vabbè! stiamo pariando proprio! mi sento il viso gonfio! mi sto gonfiando di botte da solo! e cos'è quel tagliapatate là? prendo questo è uguale! babbo non fa niente! c'è il tagliapatate sull'occhio ma è pazza! io metto un cucchiaio uguale! patch fauro! c'è guarda proprio identico mi è uscito! facciamo stopera d'arte pure di qua va? a cucchiaio così e voilà! signor o signori le c'est magnifique! ma cosa ho sbagliato per uscire in questo modo? c'è cosa? ma cosa è la farina? un'altra novità la farina sulle cigliamo! ho paura di provare! immergiamo il nostro mascara nella farina? l'ho fatto davvero! come cazzarola me la metto il mascara occhi chiusi? no vabbè c'è io con gli occhi aperti non ci vedo! figurati con gli occhi chiusi guarda a cavo ah! no peggio peggio! come sta andando? e che ne so l'occhio chiuso! ehi adesso di qua! come cacchio fa questa? no vabbè senti lo so incapace basta! guarda sull'occhio! guarda non so cosa mi brucia di più se la farina che mi è andata a finire nell'occhio o il mascara! contenta lei! mo ci amma trucco dito e perchè? ah per le lentiggini non l'ho mai fatto proviamolo! ah partiamo col truccare il dito e poi tipo sul naso così e non ci vedo niente ca! eh! mo è meglio! ma ci metto il prodotto un po' di dito per fare! e questo proprio! guarda ci fa manca di lentino! cioè ma ci rendiamo conto! matita intorno alle labbra? ma Roma sta matita non scrivo! e io mi bello eh! e poi ce le picchiamo con il dito? labbra cattivo non si fa! glossiamoci! ma vi pare giusto che lei esce così e io così? cioè non ho parole! io mi posso aggiustare anche i capelli ma faccio lo stesso cacare! quale hank suso? l'hank tesort! ma vaffangu! ciao! 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 ciao!